Ciao 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 è vero, non è un sogno non è un sogno è tutto qui siamo in Seabasco Mekiturinensi Tirenuci Golfo Polonica ho il mio certifizio Certificazione Ah, è ripartito il video! Che è questo? Un limone Mmm, yummy Che cos'è questo? Ah, questo è la pizza calamari and fry tipico frittura mista Frittura mista di persia Mmm, buonissimo Mmm, buonissimo Delizioso Buonissimo 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 un po' di più, un po' di più, un po' di più. Crunchy, yes. Ma qui c'è qualcosa di più. Mmmmm. Un po' di più. Credo che ho il cucina. Non mi piace. Non mi piace questo. Non mi piace questo. No, non mi piace. No, non mi piace. Ok, ciao, ciò,